Siamo a capire, quasi alla fine di questo campionato, un bilancio di quest'anno. La prima volta del gioco, abbiamo fatto un ottimo lavoro, se non sarà la seconda posta, abbiamo dovuto essere felici con la terza, ma abbiamo dovuto aspettare il risultato di oggi. Abbiamo fatto il nostro lavoro e adesso dobbiamo aspettare il risultato del Napoli. Nel complesso è stata una stagione tutto sommato positiva, anche se abbiamo fatto forse troppi pareggi, che ci hanno impedito di lottare per il titolo fino all'ultimo, il titolo lo scadete anche il nostro obiettivo originario, però ecco per come si era messa la stagione, il terzo posto è già da considerare un buon risultato e ti sa che non è un'immigliazione. Tony, più contento per il gol fatto o per non aver subito gol questo team? Se non hai fatto il fotogolo, tu hai scelto, ma tu hai una clean sheet. Tutte e due, trampe le cose. Credete di meritare il secondo posto? Sì, sicuramente, credo che abbiamo vinto molti giochi in un'altra parte. Quando Spalletti arrivò, c'era una situazione molto difficile, e credo che è un po' di risultato. Sì, sicuramente abbiamo vinto diverse partite in fila, una dopo l'altra, soprattutto con di Spalletti, il vendimento è stato molto bello. Grazie. Grazie. Grazie.